Sabato 1 luglio la Whirlpool ha aperto le porte dei suoi nuovi uffici regionali di Milano alle famiglie e agli amici dei dipendenti per trascorrere insieme una mattinata all'insegna della condivisione e del benessere, un evento fortemente voluto dall'azienda per dar continuità al proprio impegno sociale, come sottolineato da Fabio Colombo, vicepresidente delle risorse umane. Il Family Day di Whirlpool è una delle tante iniziative che abbiamo organizzato all'interno dell'intera regione in paesi quali l'Inghilterra, la Francia, la Polonia e oggi fondamentalmente lo stiamo organizzando qui in Italia, in particolar modo sono già state organizzate nelle scorse settimane all'interno delle nostre fabbriche, oggi presso il nostro quartiere regionale qui a Milano ed è anche un'occasione estremamente importante per noi per inaugurare la nuova sede degli uffici regionali presso la quale ci siamo spostati circa tre mesi fa. L'evento è parte di una serie di iniziative, i Whirlpool Family Days, organizzati in tutta Italia e in Europa e rappresenta un'opportunità unica per scoprire i luoghi di lavoro di Whirlpool e rafforzare i legami fra dipendenti, famiglie e azienda. Whirlpool è un'azienda multinazionale estremamente attenta ai valori e alle famiglie dei propri dipendenti, siamo assolutamente convinti che aprire le porte del nostro ufficio regionale, dei nostri stabilimenti e dei nostri paesi alle famiglie dei propri dipendenti permetta alle famiglie di essere in contatto con i nostri prodotti di cui siamo particolarmente orgogliosi, nonché rispettare quelli che sono i valori, parte essenziale del nostro DNA, ovvero rispetto, integrità e attenzione al benessere del dipendente. L'azienda dunque continua a credere fortemente nel connubio vivo fra la sfera sociale e lavorativa dei suoi dipendenti. Queste azioni sono molto importanti per noi per sostenere l'engagement e il senso di appartenenza delle nostre persone. Le nostre persone passano più del 60% della propria vita all'interno dei nostri uffici, pertanto aprire le porte e mostrare ciò che realmente si fa ogni giorno risulta essere un elemento importante di cui essere orgogliosi con se stessi ma anche con le proprie famiglie. L'apertura della nuova sede di Milano ai propri lavoratori e alle loro famiglie è uno dei tanti passi fatti in avanti da Whirlpool per il welfare aziendale, una delle mission più importanti dell'azienda di elettrodomestice americana.